Menfi, città della provincia di Grigento, conosciuta per il mare e per il vino, ma Menfi presenta anche una lunga storia. Infatti fu interessato da insediamenti umani fin dall'antichità. Alcuni storici ipotizzano che Menfi fosse ubicata nella vicinanza dell'attuale borgata di Portopalo. Alcuni studi evidenziano che in questa zona sbarcarono i saraceni e lì iniziarono a fissare i loro insediamenti e che la costruzione del casale di Borgio Milluso nel 1239 sia stata eseguita da un sito già occupato da un borgo saraceno. Dopo la scomparsa dei musulmani in Sicilia, la terra di Borgio Milluso era rimasta priva di abitanti. Nel 1518 Giovanni Vincenzo Tagliavia ottenne da Carlo V il privilegio di costruire un casale sul territorio di Menfi, ma non riuscì ad attirare abitanti. Un secolo dopo, nel 1638, Diego Tagliavia a Ragona Pignatelli diede origine alla costruzione del primo nucleo urbano di Menfi.